Dare il via ad un censimento delle case popolari occupate e procedere con contratti di solidarietà abitativa. Il sindaco di Nociara Inferiore, Maglio Torquato, ribadisce la sua posizione sulla questione abitativa sociale. Bisogna dire la verità. Il grosso dei fabbricati di Monte Vescovado sono occupati in parte da veri vittime del terremoto che hanno esigenze abitative. Parte di quelle altre occupazioni si sono stratificate nel corso del tempo. Ci sono delle graduatorie che risalgono al periodo del 2009. Quelle graduatorie vanno ricensite, va ricensita la popolazione abitativa di là sopra. Non tutti versano in condizioni di vero disagio sociale. Questa è una verità che va raccontata alla città. Perché per produrre dei ricorsi al Tribunale amministrativo, come nel caso dello sgombero che noi stamattina abbiamo disposto dei tre alloggi, uno liberato, due si mantengono ancora occupati perché c'è questo ricorso al TAR, hanno dei costi ricorsi al TAR. Ma questa è una vicenda simbolica. Penso che sappiano tutti in città che non tutti sono in condizioni di profondo disagio economico. Quindi un ricensimento reale all'attualità è assolutamente necessario. È un lavoro pesante che richiede un piano di intervento organico. Questa è la ragione per la quale abbiamo immaginato di lanciare questa proposta, che è una proposta già allo studio di fattibilità tecnico-economica degli uffici comunali, che di qui a 30 giorni sarà presentata ufficialmente, che è quella di una raccolta di fondi con contribuzione una tantum, al minimo, da parte dei nuclei contribuenti, per una somma solo sull'anno di 50 euro media, cioè tra i 25 e i 60, con un accontenamento anno di circa 800 mila euro, per proporre dei contratti di solidarietà abitativa su scala cittadina.